Correre a Monza, correre in Inghilterra nei circuiti storici inglesi fanno venire la pelle d'oca, anche Monte Carlo, sono tutti circuiti molto importanti per quello che è lo spettacolo e per quello che è la storia della Formula 1. Poi è chiaro che le macchine sono cambiate tantissimo, secondo me le macchine sono troppo lunghe quindi ci sono dei circuiti come Monte Carlo che sono diventati troppo piccoli per questo tipo di macchina e quindi bisognerebbe dare un limite secondo me alla lunghezza della vettura, la vettura di oggi è circa 6 metri, 6 metri e 20, la vettura quando farevo io erano 4 metri, 4 metri dietro. Tenerei indietro sulle dimensioni delle automobili e cercherei di far correre di più la Formula 1 nei circuiti storici.